Si chiama Taylor Rassey e pensate che questa bellissima e sensualissima barista avrebbe ricevuto un biglietto della lotteria come mancia come spesso si fa all'estero e da quel biglietto avrebbe vinto la bellezza di 50.000 dollari Il cliente gli ha dato questo biglietto della lotteria, si è rivelato molto fortunato, meglio vincente La ragazza infatti ha precisato che i clienti spesso fanno questo tipo di mancia abbastanza atifici Questa volta però la fortuna l'ha baciata in bocca, se così si può dire La ragazza che lavora in un bar del Missuri infatti ha fatto sapere che ha vinto in buona sostanza 50.000 euro grazie a quel biglietto vincente La fortuna a volte è cieca ma in questo caso ha voluto premiare la ragazza in questione barista in Missuri, Stati Uniti d'America Complimenti dunque alla bella, sexy e affascinante nonché simpatica Taylor Rassey Il video termina qua, iscrivetevi ripeto se vi va, commentate e datemi le vostre opinioni Un cordiale saluto a voi e dal vostro Leandro Narratore